Grandi sacchi di rifiuti abbandonati in via Roma, vicino alla stazione delle Corriere di Treviso. Con un'operazione Lampo, gli agenti del nucleo antidegrado della polizia locale sono riusciti ad individuare i responsabili che sabato pomeriggio hanno lasciato le immondizie sul marciapiede, suscitando l'indignazione di negozianti e residenti. In cinque verranno denunciati. Questo è stato fatto grazie anche all'immagine della videosorveglianza che hanno intercettato questi cinque responsabili che saranno deferiti all'autorità giudiziaria. Ricordo infatti che dal 10 di ottobre abbandonare rifiuti in suolo pubblico prevede sanzioni di natura penale con sanzioni fino a 10.000 euro. Per gli ecovandali si prospetta dunque il rischio di una batosta che potrebbe essere ancora più grave per uno dei cinque che risulta essere il titolare di un locale gestito da stranieri. Peraltro uno di questi responsabili ha un'attività imprenditoriale proprio in via Roma e ha abbandonato rifiuti relativi alla sua attività. E non escludiamo che proprio per questo comportamento che riteniamo assolutamente grave possa essere sospesa la sua attività per alcuni giorni. Gli altri ecovandali sono residenti in zona che evidentemente credevano di fare i furbi abbandonando così i rifiuti in barba alla raccolta differenziata. Tutti saranno convocati in comando nei prossimi giorni e saranno deferiti all'autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti in area pubblica.